Ben tornati per una nuova puntata del ciclo di Catechesi dedicato all'Antico Testamento. Siamo giunti alla puntata numero 7-8 del ciclo di Catechesi, ma oggi dovremmo concludere il ciclo dell'Esodo e di Mosè. Ricordo sempre che questo ciclo di Catechesi ha uno scopo, come dire, propedeutico, introduttorio, esemplificativo, sintetico, perché soltanto per fare bene il libro della Genesi ci potrebbero volere un anno di incontri di Catechesi a cadenza settimanale e non sarebbero neanche sufficienti, solo per il libro della Genesi. Figuriamoci per tutto il Pentateuco, perché abbiamo visto nella Genesi le figure di Abramo, fondamentalmente la figura di Abramo, dove ha assistito ai racconti dalla creazione fino al diluvio. Abbiamo introdotto rapidamente Isacco e Giacobbe e poi Giuseppe, proprio per raccordarci con la discesa di Sereo nell'Egitto e quindi poi con Mosè e l'Esodo, che abbiamo già in parte affrontato. Ci restano però dei tratti salienti, perché le vicende dell'Esodo vengono trattate trattate sotto punti di vista contigui e complementari da ben quattro libri, quindi non solo l'Esodo, ma anche il Levitico, che specificamente tratta dal nome stesso del testo, Levi era la tribù dedicata al culto. Quindi nel libro del Levitico sovrabbondano le disposizioni cultuali, per molti di noi nel 2022 completamente incomprensibili, relative però alla legge del culto dell'antica alleanza, che aveva una ragione di essere. Chi ha seguito il ciclo di catechesi, per esempio, relativo al peccato originale, l'ipotesi teologica, circa la dimensione sessuale del peccato originale, ricorderà che il Levitico, per esempio, è stato utile in ordine alla comprensione della legislazione cultuale, perché è la legislazione cultuale, a proposito dell'impunità della donna, quando? Nel periodo delle sue indisposizioni mensili e dopo il parto, per la perdita del sangue. Tanto per dire alcune cose. In questi libri, evidentemente, la grande fatica dell'interprete, e qui chi li legge in maniera spirituale, come qualunque fedele con estrema umiltà e discernimento può fare, deve farsi un pochino guidare da un minimo discernimento, quindi comprendere, che un'espressione del tipo si cita sempre questa, non mangerai il capretto nel latte di sua mamma, questa è una cosa molto famosa, che tuttora adesso tra gli ebrei ci sono i cosiddetti locali kosher, cioè quelli dove non fanno insieme latticini e carne, per evitare appunto di trasverire questa norma del Levitico. Sono cose che a noi oggi ci sembrano fuori del mondo, e queste sono state effettivamente abrogate dalla nuova alleanza. Però anche in questi libri, vi vedremo qualcosa oggi, ci sono dei passaggi, dei passi, delle istruzioni che vanno al di là del fatto contingente e mantengono una loro perdurante attualità e portata formativa. Ecco perché la Chiesa ha sempre difeso l'Antico Testamento, ma ha questo sulle orme di Gesù, che ha detto non pensate che io sia venuto ad abborire, a dare compimento, non passerà nemmeno un trattino, un macef e uno iota, uno iod, finché tutto sia compiuto, quindi non si tocca l'Antico Testamento. Anche in tutte quelle parti dove sembra particolarmente alla nostra sensibilità degli uomini del 2022 di non capirci niente. Per esempio, i grandi classici erano bravissimi a fare un sacco di interpretazioni allegoriche, chi volesse, dico queste cose perché così ecco, diamo anche un po' un trattere ripeto, no, pedagogico, formativo, catechetico di questi incontri. Se uno ci avesse voglia di leggersi qualcuna delle omelie sul Levitico di origine andrà a vedere come questo grande segeta, non è stato l'unico, ma era una cosa tipica in un'età patristica, si scimentava con questi brani cercandone un'interpretazione spirituale allegorica. Anche dietro tutti quei precetti cultuali tipo per offrire il capretto X devi togliere il grasso, poi il fegato lo devi brusare, o cose di questo genere si leggono nelle Levitico, basta andacci a dare un'occhiata, insomma, no? E pensate che i padri andavano a chiedersi sì, ma che significa che tolgo il grasso e lo brucio? E gli davano interpretazione, andrà a vedere, spirituale, spesso morale, no? Vuol dire che il Signore non vuole che noi facciamo a meno di tutte quante le cose superflue, no? Bruciare il grasso, ecco, per dire, no? È molto interessante vedere queste cose perché teniamo sempre presente che nella Sacra Scrittura la Chiesa si è sempre mosso su due binari la difesa del senso letterale, sempre ma al tempo stesso la difesa del senso spirituale cioè il senso letterale va sempre difeso ma il senso spirituale non manca quasi mai anche se molte volte è difficile molto, alcune volte molto difficile altre volte quasi impossibile estraporarlo, tirarlo fuori ma è questo perché la Sacra Scrittura è parola di Dio quindi è il suo mondo certamente che entra cioè che viene incontro al nostro mondo ma è il suo mondo quindi come sempre quando ci si accosta a Dio bisogna sempre accostarsi con questa con questa sacra riverenza stiamo dinanzi al suo mondo non siamo sicuramente in grado di comprendere tutta la portata di quello che leggiamo speriamo e con l'aiuto del Signore ci accapezziamo qualcosa ecco, questo è sempre l'atteggiamento migliore, consono per non andare a e tenendo sempre presente che ci sono duemila anni di santi, dottori, pastori vescovi, papi, interpreti che ci hanno preceduto e che dobbiamo tener conto delle cose che dicono non possiamo ignorarle specialmente quando si tratta dell'interpretazione dei testi sacri ora andiamo a vedere facciamo un po' di condivisione di schermo il percorso che ci resta ancora un po' da fare no? ecco la volta scorsa abbiamo trattato detto la slide per il precedente abbiamo concluso trattando delle tre prove di traere nel deserto un argomento assolutamente fondamentale perché come abbiamo visto ripreso poi da nostro Signore Gesù nel Santo Vangelo quindi le prove subite da lui nel deserto sono il rovesciamento vittorioso delle cadute di Israele nei 40 anni nel deserto 40 anni contro 40 giorni abbiamo poi visto un altro episodio che ci suscita nel Vangelo di San Giovanni come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che sia innalzato il Signore dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna oggi dobbiamo vedere delle altre cose bellissime insomma no? allora andare a vedere cioè la formulazione dei dieci comandamenti è è quasi obbligatoria no? ecco e poi magari leggere qualche piccolo cenno soltanto per farci un'idea della legislazione cultuale e allora per esempio questa legislazione cultuale come dire abbiamo un pochino di cultura biblica è per esempio il background teologico di tutta la lettera agli ebrei sapete che la lettera agli ebrei è stata tradizionalmente fino a 30 anni fa attribuita a San Paolo dopodiché gli eseggeti contemporanei hanno cominciato a mettere in discussione questa attribuzione e pare che nella chiesa non so neanche bene in qualche modo questa cosa sia stata accettata perché adesso però non ho ancora stabilito chi sarebbe lui il vero autore della lettera agli ebrei tant'è vero che se ci fate attenzione quando si legge la lettera agli ebrei si dice dalla lettera agli ebrei mentre si dalla lettera di San Paolo ai Colinzia e Tessalonici eccetera eccetera dalla lettera agli ebrei io è meglio che non dico quello che penso insomma perché io sono sempre proprio questo è proprio per indole restio a accettare queste cose nonostante che gli studiosi scientifici presentino delle motivazioni apparentemente rilevanti da un punto di vista scientifico però io quando si tratta di andare contro a centinaia di anni di tradizione a me viene sempre il mal di stomaco ecco quindi non non ci riuscirei personalmente a fare questo a cuore leggero però hanno deciso di fare così facciano pure in ogni caso chiunque sia l'autore la lettera agli ebrei appartiene al canone delle scritture rileverate quindi non è in discussione anche se per ipotesi ripeto io personalmente stento a crederci l'autore non fosse San Paolo il background della lettera agli ebrei è tutta la legislazione cultuale di Israele perché è praticamente una lettura di come tutte quante quelle cose che venivano fatte in quella forma coenta oscura il tempio del tabernacolo il velo del tempio che poi viene squarciato e poi lo Yom Kippur quindi questo agnello che veniva sgozzato quell'altro che veniva mandato nel deserto la lettera agli ebrei mostra come tutto questo era una prefigurazione tipologica ho già spiegato quindi nell'ombra di ciò che poi avrebbe vissuto nostro Signore Gesù Cristo il sacrificio per esempio di nostro Signore è stato un sacrificio cruento non è che il nostro Signore è stato la Messa è un sacrificio in cruento ma il Golgotha non è un sacrificio in cruento quindi tutto il sangue che si spargeva di fatto nel tempio quando poi è stato costruito e nel culto di questi agnellini innocenti era figura del sangue della Nuova Alleanza che è stato versato realmente l'animale innocente per antonomasi insomma non l'agnello era simbolo dell'innocente per antonomasi con la I maiuscola e il sacrificio da offrire a Dio era necessario ma che sacrificio si legge proprio nella lettera degli ebrei Dio non può essere placato dal sangue di montoni e di tori ma che cosa insomma di chi non ha dato il sangue di animali ragionevoli ma quello offerto con tutta la carità e l'obbedienza possibile dal suo figlio stesso vittima lui stesso sull'altare della croce beh insomma questa è un'altra cosa no quindi capiamo dice c'è tutta quanta questa parte della sacra scrittura ostica che però chi se la studia diciamo così capisce poi meglio tutta una serie di passaggi che si leggono nella lettera degli ebrei se questa cosa la ignori la lettera degli ebrei non ci capisci quasi niente perché si chiama lettera agli ebrei proprio perché è rivolta agli ebrei e gli ebrei queste cose ovviamente le masticavano alla grande perché la Torah tranquilla con più ebrei la conosceva quasi a memoria i libri del Pentateuco no ecco bene detto questo andiamo a dare un'occhiata al grande Decavoco quindi a Esodo 20 ce lo gustiamo ecco come come sono stati formulati i dieci comandamenti sulle tavole di pietra no cambiamo un attimo eccolo qui andiamoci a gustare un po' di Esodo 20 le dieci parole Dio pronunciò tutte queste parole io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile e questo bisogna dalla terra d'Egitto dalla casa degli schiavi più che dalla condizione servile qui anche la cedula la casa degli schiavi bellissimo sentivo un intervento recente del mio amico l'avvocato amato che tra le tante cose conosce molto bene c'è anche la saga scrittura che parlava egregiamente insomma la terra d'Egitto era appunto era la condizione di schiavitù da cui il Signore ci ha liberati il paraone era simbolo del diavolo eccetera eccetera non avrai altri dei davanti a me letteralmente lo ichie lecha elohim aherim al panai allora qui letteralmente è proprio la traduzione letterale non ci sarà lecha per te dio elohim aherim altro al pani panai letteralmente al di sopra della mia faccia bellissima questa questa traduzione letterale no? non è non avere altri dei di fronte a me non avrai altri dei al di sopra della mia faccia cioè non puoi mettere nessuno al di sopra di me questo significa avere altri dei cioè io vengo al primo posto chi proviene a immaginare certo provate un attimo a chiedervi ma siamo sicuri cioè anche nella nostra vita personale no? ma tu sei sicuro che Dio venga veramente al primo posto davanti a tutto davanti a tutti sempre dovunque comunque non ci sarà per te Dio al di sopra della mia faccia quindi vuol dire che noi possiamo crearci chi è Dio cioè sapete no? Dio diceva il grande santo Alselmo da Osta è ciò di cui non possiamo immaginarsi niente di più grande ma il tuo Dio vedete cosa cosa dice il Signore no? io non è tanto io sono il Signore il tuo Dio ma lì 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 c'è scritto io il Signore sono il tuo Dio cioè sono e sottinteso devo esserlo cioè il tuo Dio devo essere io devo essere Yahweh cioè ciò che è la cosa più importante e più preziosa di tutto pensate gli amanti facciamo un po' di catechesi interdiscipline gli amanti della divina volontà qua già ci è scritto tutto che cos'è vivere nella divina volontà? che il tuo Dio è il Signore Yahweh cioè la Santissima Trinità questo lo sappiamo con il Nuovo Testamento la Santissima Trinità la cui vita è la sua stessa divina volontà e non metti nessuno al di sopra di lui finito cioè già ti ho scritto tutto qua ecco poi prosegue attenzione andiamo a divertirci un altro po' va non ti farai prima regola traduzione della scena non ti farai idolo né immagini alcuna di quanto è lassù nel cielo né di quanto è per giù sulla terra né di quanto è nelle acque sotto la terra l'otaselecha quindi letteralmente non farai per te pesel e questo è proprio pesel è proprio l'idolo ma ti farai idolo vekol tamunah né forma sarebbe no forma inteso come qualche cosa di di definito asher vashamayim che sta nel cielo che sta nel cielo mimma'al lassù che sta nel cielo là sopra mimma'al va asher vashamayim mitahat o che sta sulla terra a bacco dire provispa di sotto va asher vashamayim mitahat la arez oppure che è bamayim nelle acque sotto la terra e qui sotto canta la la cosmologia arcaica no non farsi idolo né di quanto sta nel cielo né di quanto sta sulla terra né di quanto sta sotto terra quindi cosa sta sta dicendo fate che non vorrei che dopo io vorrei finirla questa sera se però mi metto a andare a fare le esegesi dell'esodo stiamo qui fino a mezzanotte amici però è troppo bello allora di ciò che sta sopra nel cielo noi non possiamo farci immagini chi di noi può rappresentarsi come è fatto Dio chi se lo può immaginare nessuno cioè anche nel suo farci vicino a noi nel suo farci vicino a noi noi lo diciamo adesso dalla bellezza del nuovo testamento perché il figlio la seconda persona si è fatta uomo quindi attraverso la sua umanità ci ha mostrato il volto di Dio ma non Dio Dio non lo possiamo cioè in questa terra non possiamo farci un'idea adeguata di Dio e non c'è quindi siccome non possiamo non dobbiamo dobbiamo stare dinanzi a lui come a Lid Cormaius cogitare in equite cioè colui di cui non si può pensare niente più grande ma che come le immagini anche dell'Esodo la nube che guida Israele perché la nube e la colonna di fuoco sia la nube che il fuoco sono cose che tu vedi ma vedi ma sono cioè tu la nube la puoi in qualche modo afferrare il fuoco noi lo vediamo il fuoco ma il fuoco per definizione non c'è non c'è una forma c'è tutte queste fiamme che zampillano è una creatura un po' sui generis ecco forme sensibili con cui Dio faceva percepire la sua presenza ecco di ciò che è lassù non possiamo farsi un'immagine adeguata o invece di ciò che è sulla terra o sotto la terra cioè le creature e i diavoli non sia mai che ce ne facciamo idoli perché il satanismo esiste esisteva ed esiste pure Moloch che hanno messo in giro non so se sta ancora Colosseo sicuramente è stato era una divinità cananea a cui si mollavano bambini temi di drammatica stretta attualità non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai attenzione questi verbi molto molto belli che è bello proprio andarlo a vedere no lo tis ta che no questa è una coniugazione rarissima ecco di chava che significa prostarsi è l'ishtafel quindi insomma raro 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 non ti prostrerai davanti a loro ve lo ta of of them non li servirai poiché chi anocchi io sono sottointeso il signore tuo dio attenzione el cana un dio geloso questa è una cosa che manda un po' in crisi no attenzione poched che punisce pacad proprio punire avon la colpa avot dei padri albanim sui figli al shileshim fino alla terza al rebahim alla quarta le shneam per coloro che mi odiano per le shnea odiare i suffisso di prima persona mi per coloro che mi odiano ve o se e chesed o e ma che fa che usa misericordia che fa misericordia la alafim fino a mille generazioni sottointeso le o a vai per coloro che mi amano u le shomere e osservano mizmotai i miei comandamenti attenzione la gelosia di dio la gelosia di dio non è per lui un difetto perché dio vuole che siamo tutti suoi non perché è geloso degli altri come se come come se ci fosse un possesso che qualcuno mina ma per il bene che ci vuole perché lui sa che solo se stiamo tutti con lui saremo felici perché essere tutti suoi lui non è che ci guadagna un gran che se non la gioia di vederci felici certamente ma che ci guadagniamo siamo siamo noi no ecco questo non pronuncerai il vano nome del signore ricordate il giorno di sabato per santificarlo se i giorni lavorerai fai il tuo lavoro il settimo giorno e questo stranto l'indugio sul sabato quarto comandamento onoro tuo padre e tua madre perché si prolunghi nei tuoi giorni nel paese che il signore tuo dio ti dà il primo comandamento quello sui genitori è il primo collegato a una benedizione no poi lo non ucciderai lo tinaf non commetterai adulterio lo tignob lo ruberai lo tane beraha ed shaqer non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo e poi non deciderai la casa del tuo prossimo la moglie del tuo prossimo non scherzo eccetera no queste sono le dieci parole che furono sono e saranno lo sappiamo bene anche questo è un passo importante perché Gesù nel discorso della montagna riprende il decalogo quasi tutti i comandamenti prende l'adulterio prende il quinto comandamento e li amplia quindi li conferma e li amplia mi raccomando l'argomento specioso di chi va a dire sapere furono fatte anche trasmissioni televisive molto popolari no qualcuno che è andato a dire ah ma il sesto comandamento dice non commetterà adulterio quindi cos'è questa sessuofobia della chiesa dice non commetterà adulterio certamente nella versione dell'antico testamento dove già era un miracolo se non si commetteva adulterio ecco ma poi nel nuovo testamento già Gesù prima di san paolo ha cominciato ad ampliare la sfera di azione già si vede nel discorso della montagna no se uno guarda una donna per desiderarla se la mano ti scandalizza se l'occhio ti scandalizza se il piede ti scandalizza taglia 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 cava 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 taglia 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 eccetera eccetera no siamo sempre pronti a rispondere a chi invoca speciosi pretesti e a prendere qualche cosa del culto no tanto per andare a vedere a farci un po' un'idea velocissima ecco perché poi è importantissimo andiamo a vedere dei passaggi del del deuteronomio no allora ecco vediamo per esempio l'arca dell'alleanza la rivesterai d'oro puro dentro e fuori farei un bordo d'oro fondare per essa quattro anelli d'oro rivesterai su quattro piedi due anelli su di un lato due anelli su un altro proprio nei minimi dettagli farei stange di legno di acacia rivesterai d'oro introdurrai le stange negli anelli sui due lati dell'arca per trasportare con essi l'arca eccetera eccetera farai il propiziatorio d'oro puro avrà due cubiti e mezzo di lunghezza e un cubito e mezzo di larghezza farai due cherubini d'oro gli farai lavorati quelli che coprivano l'arca bellissimi no vedete l'oro le cose preziose le cose che rimangono no l'arca dell'alleanza cioè è molto meno di quelli che sono i nostri tabernacoli allora oggi c'è una malintesa insomma come dire un malinteso senso della povertà evangelica o della sobrietà per cui si vedono tabernacoli orridi di non si sa quale materiale insomma calici orridi di legno di coccio eccetera eccetera ma tanto nostro signore non fa caso a queste cose lo dici tu lo dici non fa caso a queste cose sulla bibbia c'è scritto un'altra cosa oro a tutto spiano oro a tutto spiano oro è voi immaginate che cosa vuol dire fare due angeli di oro massiccio di oro massiccio lo stensore mariano che per grazia di Dio mi è stato regalato il giorno del mio compleanno che è di bronzo l'originale di quello che è stato realizzato per il santuario di Fatima è stato fatto in argento io quando seppi insomma in argento quello che costa in argento uno stensorietto cioè capito per carità so lo stensorio 60-65 centimetri d'argento non è tutto argento perché poi sapete quanto costa uno stensorietto d'argento intorno ai 25 mila tra i 25-30 mila euro immaginate fosse d'oro una cosa del genere immaginate se devi fare due angeli d'oro massiccio per l'arca dell'alleanza quanto costa e infatti attenzione che i primi versetti del versetto del capitolo 25 ordina gli israeli che raccogliano per me un contributo lo raccogliete da chiunque si generoso di cuore ed ecco qualcosa da raccogliete da loro come un contributo oro argento e bronzo tessuti tessuti di porpora viola e rossa di scarlatto di bisso e di pelo di camera pelle di montone di intardi rosso pelle di tasso legno di acacia se uno si va a informare di tutta questa roba qui questo è tutto materiale per quei tempi preziosissimi pietre di onice pietre da incastonare nell'efod nel pettorale gli abiti dei 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 dell'antico testamento erano uno spettacolo unico e adesso ormai sono 60 anni che con la scusa di non servono a niente pizzi e merletti come sovente si è ridotto il culto e attenzione che poi si dice che va bene così che finalmente stiamo abbiamo eliminato tutte quante queste cose e Dio sarebbe molto più contento ma ma io dico sempre ma speriamo ecco dico perché però insomma a quanto pare non è che siamo molto autorizzati andiamo adesso al Deuteronomio il Deuteronomio amici è secondo me di tutti quanti i libri del Pentateuco il più comprensibile ed è anche molto bello perché il Deuteronomio è fondamentalmente una riflessione a parte una esaltazione continua della felicità che viene dall'osservanza della legge di Dio cosa verissima ma è anche una adesso andremo a vedere con Deuteronomio 8 soprattutto una rilettura teologica quindi alla luce di Dio dei fatti successi a Israele nei 40 anni nel deserto soprattutto allora capitolo 6 è quello che poi contiene il versetto 4 il famosissimo Shema Israele che per chi sta seguendo la diretta è il canto che ha introdotto volontariamente insomma questo incontro no allora vedete anzitutto la diversificazione guardate noi in ebraico poi adesso lo vedremo questi sono i comandi le leggi le norme che il Signore vostro Dio ha ordinato di insegnarvi perché li mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso questo se lo godiamo tutto quanto perché tu tema il Signore il tuo Dio osservando per tutti i giorni della tua vita tu tuo figlio il figlio del tuo figlio tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni ascolta Israele bada di metterli in pratica perché tu sia felice attenzione poi lo vediamo in ebraico e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele come il Signore tuo Dio Dio dei due vali che ti ha detto e poi c'è lo scema che poi ce l'andremo a leggere allora quali sono la volontà di Dio come si esprime vesot hamitzvah adesso li vediamo hachukim ve hamitzpatim ci sono vari termini anche nel per esempio il numerissimo Salmo 119 per esprimere per esprimere i precetti di Dio allora i mitzvot sono proprio la mitzvah qui deriva anche il verbo tzivah che significa ordinare sono i comandamenti per esempio i dieci comandamenti sono mitzvot e hachukim attenzione questi sono gli statuti la hukka è uno statuto o un decreto d'accordo quindi sembra insinuato in questo termine a parte l'aspetto cultuale d'accordo quindi tant'è vero che la vulgata traduce cerimonie ma oltre che l'aspetto cultuale c'è anche come dire un aspetto un po' più mentre il comandamento è generale e astratto la hukka comincia ad essere un pochino più determinato e rivolto al concreto e attenzione anche i hamishpatim cioè i giudizi di Dio cioè i giudizi cosa significa San Paolo avrebbe detto non conformatevi alla mentalità di questo mondo ma trasformatevi rinomando la vostra mente il giudizio sono è una cosa molto molto importante perché noi giudichiamo in continuazione noi non possiamo giudicare l'intenzione delle persone mai ma noi in continuazione stiamo giudicando e dobbiamo giudicare allora quali sono i criteri dei nostri giudizi Dio ti dà comandi leggi e giudizi cosa è vera e cosa è falso cosa è bene e cosa è male in astratto e in concreto d'accordo questo vale per la nostra vita questo vale per la situazione storica che stiamo vivendo noi giudizi li diamo in continuazione e li dobbiamo dare in base a cosa alla nostra sensibilità personale a quello che pensa il mondo pensiamo oggi alla festa di San Pietro e Paolo il grande vangelo dominato dal primato di Pietro che cosa dice la gente di me ma alcuni dicono che sei Giovanni Battista altriere altriere uno dei profeti no voi Pietro prende la parola a questa è quella cosa giusta e questa non te l'ha detta la carne il sangue ma il padre mio attenzione che sulle cose che si vedono che si vivono ci sono molti giudizi possibili ma uno solo è quello giusto è quello giusto è quello che viene da Dio è quello ispirato a criteri divini ed è quello che dobbiamo cercare in continuazione quindi vedete che belle cose no tutte queste cose che il Signore vostro Dio vedete mi ha ordinato zivah amitzvot zivah questo è il verbo perché le l'amad attenzione perché l'amad è anzitutto che mi ha ordinato di insegnarvi la azot la azot letteralmente è perché le facciate è proprio il verbo fare chiaramente per rendere un italiano dobbiamo dire le mettete in pratica ma anche il greco dice poi e il latino dice facciatis ea proprio farle ok ci devono fa nella terra in cui state per entrare prenderne possesso per ereditarla le l'erishtach ok per ereditarla perché tuttema il Signore tuo Dio attenzione l'ishmor osservando per tutti i giorni della tua vita tutti i precetti tutti gli ordini che io ti ho ordinato tu tuo figlio e figlio eccetera eccetera e poi c'è bellissimo Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echand questo sapete che gli ebrei anche Gesù e Maria sicuramente era come il nostro Angelus la mattina a mezzogiorno e la sera e quando facciamo l'angelo se ce lo ricordiamo questo è anche per noi Adonai Elohenu Adonai Echand Ascolta Israele Yahweh è il nostro Dio Yahweh è l'unico Dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutte le tue forze meod 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 letteralmente significa molto e con tutto il tuo molto d'accordo vai a diriamarla assai dicono a Napoli no ecco e qui poi questi precetti che ti siano visti nel cuore sapete ti rilegherai la mano come un segno avete visto che gli ebrei portano quelle fascette alla mano è questo ti rilegherai la mano come un segno oppure che portano quei cosettini sopra gli occhi no saranno come un pendagno sopra gli occhi oppure che si mettono dentro gli stipidi delle case i rotolini con la Torah li scriverai sugli stipidi della tua casa e sulle tue porte quindi sono delle certamente sono delle forme simboliche è utile che ti metti il rotolino davanti agli occhi poi trasferisci la legge di Dio questo è evidente però vedete come qui il Signore sta dicendo poi passiamo oltre ma sempre per far comprendere insomma alcune cose dell'antico che comunque hanno poi valore che va oltre cosa sta dicendo il Signore cioè che i segni esteriori che sapete poi in certo ebraismo specialmente ai tempi di Gesù e giudaismo hanno degenerato proprio in maniera macroscopica cioè a livello maniacale quasi ossessivo insomma in cose completamente umane quindi questa certamente è una ipertrofia è un'anomalia è una cosa da non seguire ma di per sé il segno esteriore è importante i consacrati totus tus per esempio sapranno che il monforte dice fai la consacrazione mettiti una catenella non è che tutti quanti poi siamo sempre facili ad attaccarci a questi segni esteriori come se fossero dei fetici che ti metti la catenella se poi fai tutto il contrario di quello che vuole la Madonna però se c'è una disposizione buona nel cuore la catenella da un lato ti ricorda chi tu sei che tu hai volontariamente scelto di essere uno schiavo di Maria dall'altro lo mostra senza paura al prossimo dandoti poi chiaramente anche la responsabilità di testimoniarlo eppure al diavolo che il diavolo se vede quel segno sa che c'è davanti a sé una persona che ha protestato che si è consacrata che vuole essere il servo di Maria quindi poi si prenderà più il gusto a tentarlo per farlo cadere però sa anche insomma che quella è roba consacrata quella appartiene alla Madonna i segni esteriori no? ecco andiamo però a vedere anche Deuteronomio 7 e 8 per andare a concludere perché dopo dopo troviamo sulla slide nell'ultima slide ci sono scritte le ultime cose che vediamo no? quindi Israele il popolo consacrato la lettura teologica dell'Esodo queste sono due tele che ce le dobbiamo andare a gustare quindi andiamo velocemente al settimo capitolo il sesto chiaramente da leggerlo tutto è bellissimo però non abbiamo tempo di approfondire tutto quanto allora andiamo un pochino avanti anzitutto dice che quando si arriva nella terra promessa bisogna distruggere tutte le forme idolatriche che si trovano d'accordo? pulire tutto demolirete le loro altari spezzerete le loro stere guardate il versetto 5 sto qui taglierete le loro parole finire tutto perché il non poter scendere in nessun modo compromessi con idoli con mondo tu sei un popolo consacrato al signore attenzione consacrato che am kadosh in greco c'è agios in latino c'è santus tu sei un popolo santo ma kadosh è anche agios è anche santo sapete che significa qui a proposito di oggi delle cose inclusive d'accordo? che tu ti distingui che tu sei separato attenzione a queste cose bisogna intenderle bene agios in greco non so se si vede qui a fianco no non si vede forse nell'etimologia eh nemmeno dovete fidarvi di me agios c'è l'alfa che è l'alfa privativo e gios che viene da geos che significa terra il geologo no? chi è? quello che studia la terra quindi adios in greco significa senza terra kadosh in ebraico significa santo ma santo inteso proprio come separato quindi è qualche cosa che sottratta dall'ambiente e diventa del signore in questo senso così come una dell'etimologia di di santus ne sono tanti santomaso ne trova almeno tre però è proprio quella di essere da parte e in che senso? perché il signore tuo dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare tra tutti i poveri che sono sulla terra sapete benissimo che israele si distingueva ora che poi questa distinzione come sapete anche appena poi nelle cose sante c'entra la volontà umana va tutta fino in malora perché poi a chiamare i vagani cani oppure a pensare che solo gli israeliti erano santi tutte le cose che troverà Gesù e stigmatizzerà però di per sé questa è una cosa voluta da Dio perché tra tutti come fa la storia della salvezza si è preso un popolo e lo ha preso per sé attenzione dice il signore si è legato a voi addirittura e vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli ma perché il signore vi ama chi me hava me havat participio di ahav che è amare adonai etchem voi poiché ama il signore voi umishamru e perché ha voluto osservare il giuramento che fece ai vostri padri signore gli ha fatto uscire con mano potente eccetera eccetera attenzione riconosci dunque il signore tuo Dio conosci che il signore è il tuo Dio egli è Dio il Dio fedele che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano osservano i suoi comandamenti ma ripaga direttamente coloro che li odiano facendoli perire oh qui c'è evidentemente insinuata numero uno la grande benevolenza che il signore ha con coloro che lo amano cioè l'amore di Dio anche il nuovo testamento c'ha due dimensioni cioè l'amore misericordioso diciamo così che è universale in quanto creature proprie Dio ama tutti ma c'è l'amore di benevolenza l'amore di benevolenza non è uguale a quello universale cioè l'amore di benevolenza è che come si legge nel libro della sapienza io amo coloro che mi amano e coloro che mi cercano mi troveranno così come il concetto di retribuzione cioè noi qui siamo liberi anche di rifiutare attraverso il libero arbitrio Dio ma questo non significa che è una cosa che rimarrà impunita in eterno ecco quindi il popolo di Dio il popolo santo il popolo separato e dice guardate che se mi ascolterete uh arriverà una montagna di benedizione e qui nel versetto 13 ci sono tutte quante le antiche spie di benedizione di Dio nell'antico testamento chi è benedetto chi frutto del tanti figli tanti frutti del suolo tanto fomento tanto vino tanto olio greggi numerosi animali che si riproducono eccetera eccetera non solo il Signore non manderà su di te alcuna di quelle forneste malattie dell'Egitto qui sta dicendo nostro Signore e anche troppo tra le linee che la fonte di ogni benedizione anche materiale viene dalla vita di comunione con Dio questo non significa che chi sta in comunione con Dio se il Signore decidesse di metterlo alla prova è immune da qualunque sofferenza ma sicuramente chi vive in comunione con Dio può pensare che qualunque cosa succeda è una prova o una croce che il Signore gli sta mandando non una conseguenza delle sue male azioni guardate che è molto diverso e spero che il Signore vi dia come certamente farà la sapienza e la cume per comprendere andiamo a Deuteronomio 8 purtroppo non c'è finiate di leggere no? abbiate cura andiamo al versetto 2 ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant'anni nel deserto perché quarant'anni? per umiliarti attenzione e metterti alla prova attenzione qui c'è proprio il verbo tecnico del testare questo è proprio nasà nasà significa io ti 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 testo umiliarti vedete anav da qui derivano gli anawim no? gli umili e per metterti alla prova per conoscere quello che c'è nel tuo cuore e se avresti osservato i miei comandi oppure no? attenzione attenzione qui ci sono due punti punto primo che il Signore ci testa ci umilia e ci testa siamo testati qui come non pensare a tutte le polemiche sul Padre nostro quella 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 espressione difficile dell'ebraico perché Dio la prova ci mette come? sta scritto qui l'ha fatto con Abramo e l'ha fatto con gli israeliti allora nel dettaglio per sapere quello che avevi nel cuore Dio lo testa ma tu lo devi sapere quello che c'è nel tuo cuore tante cose che noi passiamo attenzione guardate che per arrivare in Egitto non ci volevano quarant'anni sarebbero bastati ma nemmeno un anno se uno prende la piantina geografica qui glielo spiega perché quarant'anni e gli ti ha umiliato ti ha fatto provare la fame poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi l'attenzione per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore ti ricorda qualcosa questa questione come risponde Gesù al diavolo alla prima tentazione eccolo per farti conoscere chi lo al alechem levado l'uomo non vive di solo pane ma di quanto esce dalla bocca del Signore e attenzione versetto 5 riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il figlio così il Signore Dio tuo corregge te tutte quante le tribolazioni le sofferenze che noi passiamo il Nuovo Testamento la prova è la sua correzione è per la vostra correzione che voi soffrite lettera agli ebrei ancora l'esortazione a osservare la legge del Signore eccetera eccetera perché arriverà questa grande terra dove scorre l'alto e viene e poi guardati bene dal dimenticare il Signore tuo Dio cioè quando avrai raggiunto la terra promessa non fare che ah adesso stiamo bene e mandiamo in vacanza a tempo indeterminato il Padre Eterno quando avrai mangiato ti sarei saziato eccetera eccetera e avrai visto accrescersi la gente e l'oro il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso luogo di serpenti velenosi e di scorpioni terra setata senza acqua che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima che ti hanno diritto di manna sconosciuto i tuoi prati per umiliarti e per provarti attenzione per farti felice nel tuo avvenire quindi l'umiliazione e la prova ancora sono finalizzate a cosa? a farci felici nell'avvenire non soltanto l'avvenire inteso come l'al di là ma l'avvenire inteso anche come l'al di qua una volta superata la prova e guardati dunque dal dire nel tuo cuore la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze ricordali del Signore tuo Dio perché egli ti ha la forza di acquistare le ricchezze eccetera eccetera ma attento che se tu dimenticherai il Signore tuo Dio eseguirai altre idee di servireti e costrerai davanti a loro io attesto contro di voi che certo perirete attenzione qui non sta il Signore dicendo se farete questo io vi ucciderò no se farete questo perirete grande verità sottintesa di queste parole che il peccato stesso già farlo è morire a prescindere poi dalle conseguenze ultimo passaggio che vediamo prima di concludere è la morte di Mosè andiamo sempre sul Deuteronomio al capitolo 34 sappiamo bene lo ripassiamo Mosè questo si legge nel libro dei numeri quando si arriva alla tentazione di Massa e Meriba quindi si sono messi in testa che volevano per forza l'acqua se non avrebbero fatto un passo di più nel libro dei numeri si dice che Mosè batte per due volte sulla roccia e subito interviene il Signore poiché hai dubitato di me tu non introdurrai questo mio popolo nella terra buonissima e infatti il Deuteronomio che è l'ultimo libro del Pente si chiude come chiudiamo anche noi questa sezione perfetto siamo ancora un po' più ancora qualche minuto Mosè salì sulle steppe di Moab sul monte Nebo che è di fronte a Gevico il Signore gli mostrò tutta la terra Galad fino a Dan tutto a Neftan la terra di Efra e Manasse tutta la terra di Giude il Nege eccetera eccetera e il Signore gli disse questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo Isac e a Giacobbe io la darò alla tua discendenza te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi ma tu non mi entrerai attenzione questo l'abbiamo già detto le promesse del Signore Abramo Isac e Giacobbe siamo a 6-700 anni prima Mosè servo del Signore morì in quel luogo nella terra di Moab aveva nessuno fino ad oggi ha mai saputo dove era la sua tomba aveva 120 anni quando morì gli occhi non gli si erano spenti il vigore non gli era venuto a meno gli israeliti lo chiamassero pertinenti a giorni Giosuè prende il suo posto non è più sorto in Israele un profeta come Mosè che il Signore conosceva faccia a faccia con tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto contro il Faraone contro il Sionista e contro tutta la sua terra e per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele eccoci amici con questo ecco io mi quasi vergogno perché è proprio una carrellata velocissima che il Signore voglia perdonarmi insomma la si consideri come una piccola introduzione con qualche grande grande linea però penso che un pochino di cose edificanti sulla base di tutto questo possiamo portarcele con noi bene ci diamo appuntamento alla prossima Catechesi Biblica dove cominceremo a vedere rapidamente Giosuè qui della Tavromessa se Dio vuole perché Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga e si a a a a a a a a Grazie.